Buonasera, buonasera a tutti ed eccoci qui alla quarta edizione del webinar della IFS European Fertility Society. Siamo alla quarta edizione, siamo molto contenti di come siamo partiti con questa bellissima esperienza, un'esperienza che vi vorrei introdurre per farvi capire bene che cos'è la European Fertility Society e quali sono i nostri obiettivi, perché lo facciamo, perché cerchiamo di farlo bene e cosa vogliamo portarci a casa con questa esperienza legata a questi webinar educativi. Dunque, la European Fertility Society è una società che educa, sostiene e aiuta pazienti con problemi di infertilità a rendere il loro viaggio più amichevole e fondato sull'assistenza. IFS, appunto, sostiene le cliniche per la fecondazione assistita attraverso l'istruzione e la formazione a supporto dei pazienti, stabilendo quindi orientamenti per il servizio e certificazioni dei processi. La European Fertility Society opera a livello globale e assiste cliniche di fertilità, organizzazioni di pazienti e società di procreazione medicalmente assistita nel concentrarsi sulla centralità del paziente. Tale approccio garantisce che le esigenze, i valori e i desiderata dei pazienti siano adeguatamente considerati. Questo è il nostro obiettivo. Al fine di aiutare i centri di procreazione medicalmente assistita e aderire alle raccomandazioni su un'adeguata assistenza ai pazienti, IFS fornisce supporto attraverso servizi di consulenza e attraverso la formazione. Le nostre attività includono anche la certificazione dei centri di IPMA per gli standard di cura dei pazienti. Vado a concludere informandovi che ad oggi il gruppo in Europa si compone di decine di professionisti di settore. In Italia io, Stefano Urbani, mi occupo di guidare questo progetto, questo nuovo progetto. Al momento sono affiancato da due persone, Goda Gedri Maide, che ci sta aiutando nella gestione operativa di questo webinar, e Chiara Casotti per tutta la parte di back office. Dunque, passiamo quindi al webinar di oggi. Di cosa parliamo? Il titolo del webinar di oggi è Fecondazione con ovociti donati per donne con età materna avanzata. Quindi assolutamente un webinar molto interessante, uno dei più richiesti all'interno del panel, e il nostro ospite, sono veramente felice di averlo con noi, rappresenta una realtà nuova in Italia, innovativa, ma composta da figure, da professionisti, con una storia molto lunga, molto importante in questo settore, non solo in Italia, ma in diversi paesi del mondo. Questa nuova realtà si chiama New Fertility Group, e in questo momento New Fertility Group si trova presso European Hospital a Roma, quindi nella nostra bellissima capitale. Dunque, due parole sulla New Fertility Group. Dunque, cerco di mettermi, se riesco, a tutto schermo. Eccomi qua. Perfetto, allora, New Fertility Group è un centro di eccellenza internazionale per la fecondazione assistita, un punto di riferimento per chi sogna di diventare genitore, grazie ad un team con oltre 30 anni di esperienza nel settore e all'impiego delle tecnologie più innovative. Si trova appunto presso lo European Hospital di Roma, in un ambiente moderno e confortevole, con sala operatoria e camere di degenza dedicate al reparto di procreazione assistita. Un'equip di professionisti è a disposizione per offrire un trattamento personalizzato, con la possibilità di prenotare il primo incontro online in maniera immediata. Questa è una cosa veramente molto bella, molto innovativa, molto interessante, perché, come sapete, purtroppo con questa pandemia, per fortuna si è avuto un'accelerazione di quello che sono tutte le tecnologie digitali e quindi questo gruppo, New Fertility Group, ha sicuramente preso questa opportunità per fare questi consulti online fin dal primo momento, dando quindi un servizio a chiunque nel territorio italiano e non solo. New Fertility Group, presso lo European Hospital di Roma, è una delle poche cliniche private completa dell'unità di terapia intensiva. Altro punto molto interessante. La gestione della coppia avviene attraverso la competenza trasversale di specialisti esperti che si occupano sinergicamente di tutti gli aspetti di trattamento di infertilità. Quindi vi è la possibilità, in questo nuovo progetto italiano, ripeto, con una grande storia, in un ospedale molto noto, molto conosciuto in capitale, di poter essere gestiti a 360 gradi lungo tutte quelle che sono le competenze richieste per riuscire ad avere il miglior successo. New Fertility Group nasce appunto dall'esigenza di porre i pazienti al centro del trattamento per accompagnare le coppie nel percorso verso la genitalità. Dunque, ripeto, come ho detto prima, sono contentissimo di avere con noi il dottor Catello Scarica appunto di New Fertility Group. Buonasera, dottore. Buonasera, grazie. Come va? Bene, grazie. Bene, bene. Grazie dell'invito. Sono molto felice di partecipare a questo webinar. Grazie, dottore. Siamo felici che abbia accettato il nostro invito. Se mi lascio un minuto, vorrei introdurla. Cercherò di fare meglio per essere il più sintetico possibile. Il dottor Catello Scarica è direttore del laboratorio PMA presso la clinica European Hospital Roma, cofondatore di New Fertility Group, dottore di ricerca in biologia e medicina molecolare, morfogenesi e ingegnere dei tessuti presso l'Università Sapienza di Roma. Altamente specializzato nello studio e nel trattamento delle coppie infertili, coordina e promuove le attività scientifiche di ricerca svolte nel centro FIV, nonché l'organizzazione e l'erogazione di corsi di formazione in medicina riproduttiva. È esperto in tutte le tecniche di laboratorio di fecondazione in vitro e ha una grande esperienza nella gestione del laboratorio e nel controllo della qualità e nell'assicurazione della qualità. È autore e coautore di numerosi articoli pubblicati su riviste Peer Review e ha partecipato come relatore a numerosi congressi nazionali e internazionali. Partecipa attivamente all'attività della Società Scientifiche e da febbraio 2020 è vicepresidente della Società Italiana di Embriologia, Ricerca e Riproduzione. Dunque, dottore, direi un curriculum che noi abbiamo cercato di sintetizzare al massimo. Prima di introdurre poi il webinar, vorrei ricordare alle autenti che abbiamo qui presenti che lungo o dopo il webinar, e questa è una cosa bellissima che noi possiamo fare, potrete digitare nella chat che avete in basso a destra una domanda per il dottor Scarica Catello. Queste domande che voi pubblicherete, noi dopo il webinar, per la sessione di domande e risposte, le porremo al dottore che vi risponderà. Vi ricordo una cosa molto importante, che le domande sono anonime, quindi non dovete preoccuparvi. Inoltre, vi chiedo cortesemente di scrivere le domande in un solo messaggio nella chat e di non spezzarle in più chat. Questo ci aiuterà a gestire in maniera efficace ogni vostra richiesta. Dunque, il dottore ora presenterà il webinar per circa 20 minuti. Scrivete pure tranquillamente, gestiremo noi le domande che fate e alla fine del webinar vi diremo anche come mettervi in contatto direttamente con il nostro ospite. Dottore, allora le lascio la parola e le auguro un buon webinar. Non vedo l'ora di sentire. Grazie mille, grazie il dottore Urbani. Quindi cominciamo con questo argomento che per noi è molto importante, quindi la fecondazione con ovociti donati per donne con età materna avanzata. Introducendo più che altro l'argomento, mi è venuto in mente che potesse essere utile intanto spiegare anche qual è il quadro normativo nel quale ci muoviamo in Italia. Perché l'eterologa, così chiamata in gergo, alla fine è consentita in Italia dopo la legge 40 solo da 2014, però si può fare qualsiasi tecnica. Ovviamente il quadro normativo è abbastanza complesso in Italia con la legge che regola la PMA. Nel 2014 abbiamo ottenuto la possibilità di accedere alla donazione di gameti esterni alla coppia, proprio nei casi di sterilità, che dopo vedremo il concetto di sterilità, di che cosa si compone nella sua essenza. E con le successive linee guida del 2015 abbiamo la regolamentazione di quello che è la logo donazione o la donazione in Italia. È possibile addirittura avere donatori italiani, dopo ne parleremo. Però, come vi spiegherò più avanti, molto spesso, anzi nella quasi totalità dei casi, si ricorre a donatori da paesi esteri. Adesso vedremo il perché. Però questo mi premeva di sottolineare la complessità del quadro normativo nel quale ci muoviamo. Tuttavia è possibile effettuare qualsiasi tecnica in Italia con l'ovodonazione o la donazione di gameti in generale. Allora, di che cosa parliamo quando parliamo di sterilità? Il concetto è leggermente differente rispetto all'infertilità. L'infertilità in realtà è un impedimento all'ottenimento della gravidanza in seguito ad almeno 12 mesi di rapporti sessuali con frequenza regolare e non protetti. Generalmente è superabile. La sterilità invece è una condizione in cui, come potrete leggere qui dalla definizione proprio del glossario internazionale dell'IDF, uno o entrambi i partner sono effetti da condizione fisica permanente che non rende possibile la procreazione. Questo è uno stato permanente di infertilità. E viene definito sterilità. È il modo in cui poi una coppia deve accedere necessariamente ai programmi di ovodonazione o di doppia donazione, anche la donazione di gameti maschini. Quindi l'accesso alle tecniche di PMA con donazione di gameti è assolutamente legittimo in Italia, proprio se è disponibile la condizione reversibile di sterilità o di infertilità assoluta. È possibile ricorrere a questa tecnica, però sempre e comunque rispettando i principi di gradualità delle tecniche di PMA a cui si accede. Nel senso, nel caso dell'ovodonazione ovviamente si va alla tecnica di secondo livello, di cui parleremo tra poco, che è l'inseminazione degli ovociti in vitro. In che cosa consiste? Chi è un donatore? Allora, tutti i donatori sono individui che si sottopongono in modo spontaneo ed altruistico e soprattutto in maniera anonima nel nostro contesto, alla donazione dei propri gameti. I donatori maschili hanno un'età compresa per legge tra 18 e 40 anni, invece le donatrici femminili devociti un'età compresa tra 20 e al massimo 35 anni. Il motivo è ovviamente legato, del limite di età ai 35 anni, è legato al depauperamento della qualità ovocitaria fisiologico nella nostra specie umana. Quindi, superati i 35, una donna non può donare ovociti perché il numero e la quantità di ovociti potrebbero essere inferiore e quindi è necessario utilizzare ovociti di donne più giovani. Possono sottoporsi alla donazione anche pazienti che stanno facendo un trattamento di donazione a loro stesse, possono condividere i propri ovociti, questo si chiama egg sharing, però è una pratica non spesso utilizzata, in quanto la maggior parte delle pazienti che fanno fecondazione in vitro che hanno un'età maggiore di 35 anni, oppure per gameti che sono stati congelati in passato, ovociti congelati in passato, la cui paziente che li ha congelati non ne necessita più per raggiunti i limiti di età, perché si è già riprodotto e quindi ha completato il suo progetto di genitorialità e quindi può decidere di distruggerli o di donarli. Come si seleziona un donatore è un altro aspetto che secondo me è molto importante da chiarire ai pazienti, perché è una delle domande che ci fanno maggiormente quando li incontriamo nei nostri ambulatori e fa parte anche di un principio di trasparenza. Ecco, come si fa la selezione di un donatore non è una cosa molto banale, è un approccio multidisciplinare operato principalmente dal ginecologo e dall'indocrinologo, dall'urologo nel caso della donazione maschile ovviamente, ma che collabora con un medico o uno psicologo ed un medico genetista e anche con la parte di laboratorio e quindi con i biologi. L'interazione di tutte queste figure professionali porta a compiere una serie di operazioni di screening e di controllo sul candidato, la candidata donatrice di ovociti in questo caso, che deve superare appunto una serie di controlli molto importanti prima di poter accedere al programma di ovodonazione. In che cosa consistono questi controlli? Principalmente per esempio l'aspetto psicologico, perché ci si sottopone a questo tipo di desiderio di donare? E appunto è un atto altruistico, l'approccio con lo psicologo è molto importante proprio per verificare che ci siano i requisiti anche da un punto di vista di consapevolezza di quello che vuol dire donare un gamete. L'aspetto ginecologico invece o endocrinologico valuta sia la preparazione che deve essere fatta per andare ad ottenere gli ovociti in un numero giusto per la donazione, perché attenzione è molto importante che quando una donatrice viene stimolata, le ovaie vengono stimolate per ottenere gli ovociti, non deve essere una stimolazione troppo ampia, troppo forte, ecco non si devono ottenere un numero di ovociti esagerato, perché si tratta di donne giovani e quindi in questo aspetto per me è importante sottolineare che nel programma di ovodonazione si bada agli interessi di due lati, uno è sicuramente quello della paziente e della coppia che riceve i gameti, dall'altro c'è anche gli interessi della sicurezza della donatrice stessa, per cui anche l'aspetto dell'approccio ginecologico e endocrinologico per effettuare la stimolazione bada a tutta una serie di parametri che sono importanti per effettuare una stimolazione efficace, cioè ottenere il numero giusto di ovociti, ma che non sia troppo eccessiva per evitare di mettere in pericolo principalmente la donatrice o comunque di ottenere una quantità di ovociti esagerata e che può avere anche un'influenza su quella che è la qualità dei ovociti stessi. Il genetista invece si occupa sicuramente dello screening di una serie di patologie che vengono prescritte per normativa, come per esempio l'X fragile oppure la pedatalassemia, la fibrosi cistica e di capire se nell'albero genealogico dei parenti più prossimi della donatrice siano presenti eventuali patologie che possono essere rischiose per un'eventuale progenie. Generalmente questo tipo di patologie è sempre molto evidente a un'analisi dell'albero genealogico, quindi dei parenti più prossimi. Poi effettuando un pannello di analisi genetiche, che sono quelle tra le quali vi ho nominato, ma sono quelle più diffuse nella popolazione mediterranea e quindi prescritte per normativa, si può già avere un'idea di quelle che sono le eventuali criticità di patologie che si presentano solo ed esclusivamente se quella mutazione è presente anche nel partner maschile. A questo si può aggiungere ovviamente un pannello di analisi di geni più approfondito, che è un testing di 300 a volte 400 geni, che sono legati a fenotipi molto più rari e che comunque però possono dare delle informazioni anche su fenotipi veramente poco diffusi, ma che con casualità potrebbero presentarsi nell'altro gene. Per cui tutto questo lavoro poi si condensa in un certificato di idoneità per la donatrice per entrare nel programma di ovodonazione. I biologi ovviamente hanno un ruolo importante nella selezione non solo dei gameti che vengono prelevati dalla donatrice, ma nel processamento in laboratorio, nel congelamento, nello stoccaggio, nel matching con la ricevente. Di questo parleremo successivamente. Nella selezione avviene il matching soprattutto per gruppo sanguigno e per caratteristiche fisiche, per cui viene rispettato quello che è il fenotipo della ricevente, della coppia ricevente, quindi non solo della partner femminile, ma anche del partner maschile della coppia che riceve i gameti, gli ovociti in questo caso, e soprattutto il gruppo sanguigno, che è fondamentale perché ovviamente dalla combinazione dei gruppi sanguigni del marito e della moglie potrà venire fuori solo ed esclusivamente un tipo di gruppo sanguigno. E questo viene assolutamente rispettato in fase di selezione della donatrice per essere matchata con la ricevente. Qui vi ho riportato quello che per legge viene richiesto come tipo di esami che viene effettuata a un donatore o a una donatrice e ci sono ovviamente tutto un profilo di infettivologici, quindi viene scrinata per tutti i tipi di malattie infettive, come vi accennavo prima, spero di essere in modalità puntatore, anche il gruppo sanguigno e il fattore RH e tutti i virologici disponibili. Ovviamente i gameti, prima di essere poi introdotti in un programma di ovodonazione, devono essere testati per questo tipo di esame e o si fa una quarantena di 180 giorni, questo è quello che prescrive la legge, e successivamente vengono ripetuti gli esami e quindi si è sicuri alla paziente, si intende alla donatrice, e quindi si è sicuri che c'è la totale assenza di queste patologie testate, oppure si effettua un test più approfondito per amplificazione nucleica di queste patologie, che si fa due o tre giorni prima della pick-up, che è la procedura con la quale si prelevano gli ovociti dalla donatrice stessa. Questo è un'analisi molecolare, in parole povere, adesso siamo diventati un po' più esperti per colpa della pandemia, per cui un'analisi molecolare è un termine che è entrato nella nostra familiarità purtroppo, e quindi significa che è un test più approfondito che va a ricercare proprio quella sequenza di quel particolare virus all'interno del siero della paziente donatrice, in questo caso. In questo modo si è sicuri appunto di avere un programma di ovodonazione sicuro per la paziente e per la donatrice. Il motivo per il quale non ci sono molte donazioni, nel senso per cui si ricorre molto più spesso all'ovodonazione, risiede nella tendenza diciamo così ad essere del mondo occidentale a posporre la gravidanza o la ricerca della gravidanza. Questi sono dati del 2005, ma la tendenza è sempre più la stessa. L'età in cui si cerca un primo figlio è aumentata in tutti i paesi del mondo occidentale principalmente, e quindi questo trend di aumento al ricorso all'ovodonazione è tra le varie cause possibili, sicuramente la causa maggiore risiede nella tendenza a posticipare la ricerca di una gravidanza. E questo avviene per ragioni sociali e siamo fatti in questo modo, cioè la specie umana è fatta in modo tale da avere una finestra di maggiore fertilità in un'età più giovane nella donna in particolare. Lo slittamento in avanti invece dell'età media ci procura appunto questo depauperamento degli ovociti all'interno dell'ovaio, ma soprattutto un accumulo degli errori dal punto di vista cromosomico all'interno degli ovociti stessi che quindi si tradurrà in un errore negli embrioni che si possono formare, e quindi in più difficoltà nell'ottenere una gravidanza. Questi sono i tassi di nati vivi nelle diverse fasce d'età del registro degli Stati Uniti, di tutti i centri di PMA, di IDF degli Stati Uniti. Come potete osservare, il tasso di 40% del life birth rate sarebbe di bambini nati in braccio, vivi, 40% per le donne alle pazienti più giovani di 35 anni che declina inevitabilmente riflettendo quello che è il meccanismo fisiologico della ovogenesi e della follicologenesi all'interno dell'ovaio. Superati i 40 anni, questo tasso, questa percentuale di bambini nati vivi scende drasticamente ed è un qualcosa col quale dobbiamo fare i conti perché appunto la nostra specie è fatta in questo modo e quindi superati i 44 anni le probabilità di ottenere una gravidanza a termine con i propri ovociti è piuttosto bassa, intorno al 2 o 3%. Ed è per questo che si ricorre al programma di ovodonazione e il problema di ottenere gameti da donatrici italiane è dovuto, si può fare, nel senso che tendenzialmente la legge non vieta assolutamente alle donatrici italiane di sottoporsi a donazione e quindi ad effettuare una donazione spontanea e anonima, ovviamente. Per esempio, non si può donare tra consanguine, non si può donare tra parenti, tra amici, la donazione deve essere assolutamente anonima. Tuttavia, i 10 anni di divieti che abbiamo avuto in seguito alla legge 40 del 2004 ha fatto sì che in Italia ci siano pochi donatori e si è disincentivato, anche perché l'impianto normativo che vi ho mostrato all'inizio prevede che si possa effettuare l'ovodonazione o la donazione di gameti maschili, tuttavia, la donatrice, candidata donatrice, dovrebbe in teoria sottoporsi a una stimolazione ovarica, a un prelievo di ovociti e tutto quello che ne consegue senza ottenere rimborso spese, ma non è quello il problema, dovrebbe pagarsi anche i farmaci e la stimolazione, quindi è disincentivante anche per una giovane donna che in maniera altruistica vorrebbe sottoporsi, ma non ha facilità né mezzi economici per potersi in qualche modo sottoporre a quel tipo di stimolazione ed è per questo che ci rivolgiamo all'estero e questa è una strategia che ormai funziona dal 2014 e si sono ottenuti tassi gravidanza molto elevati, per cui la banca all'estero può produrre gameti di donatrici compatibili con tutte le caratteristiche che vi ho mostrato prima con le nostre riceventi e inviare i gameti al centro italiano che riceve i gameti li scongela per l'utilizzo della coppia. Allora qui ci sono due tipi di strategie che si possono effettuare. Il primo è quello che la banca estera quindi supponiamo che questo sia il confine tra Italia e una banca estera generalmente la Spagna, la Grecia o comunque paesi a noi affini e la banca produca gli ovociti della donatrice che vengono matchati e selezionati per una specifica coppia ricevente in Italia al centro italiano e di solito questi rapporti sono molto stretti in un senso c'è un contratto di collaborazione tra il centro italiano ricevente e il centro estero che invia e seleziona i gameti quindi una volta effettuato il matching tra la donatrice e il ricevente gli ovociti vengono vitrificati nella banca estera e inviati in Italia che vengono ricevuti dal nostro centro nel nostro caso a Roma appunto allo European e quindi scongelati gli ovociti è effettuata l'inseminazione col partner col seme del partner di solito è quasi sempre 99,9% la ICSI e quindi si effettua il ciclo di trattamento l'altra strategia che ha preso piede negli ultimi anni che è quella che utilizziamo anche noi nel nostro caso specifico all'European Hospital è quella di selezionare il matching tra donatrice di ovociti e la coppia ricevente viene fatto a monte ma dall'Italia nel nostro centro congeliamo il seme del partner lo inviamo alla banca quindi noi congeliamo il seme del marito lo inviamo alla banca che lo scongela e utilizza gli ovociti quasi sempre a fresco della donatrice per effettuare la ICSI quindi la ICSI viene effettuata nel centro della banca estera si producono le blastocisti che vengono vitrificate e in questo caso sono le blastocisti a viaggiare verso il nostro centro e una volta ricevute le scongeliamo per effettuare il transfer per la nostra coppia ricevente quindi nel primo caso viaggiano gli ovociti vitrificati nel secondo caso viaggia il seme del marito e alla fine del processo le blastocisti da trasferire la coppia viaggia diciamo viaggiano solo i gameti o gli embrioni la coppia resta ovviamente in Italia e quindi non ha il problema della trasferta all'estero questi sono i dati del registro nazionale PMA per quello che riguarda la distribuzione di ciclico nuova donazione nell'ultima relazione che il nostro registro PMA appunto deve fare al Ministero dell'Istituto Superiore di Sanità deve fare al Ministero della Salute ogni anno e come vedete la maggior parte dei cicli si è svolta in diverse regioni quasi sempre in centri privati perché sono quelli più specializzati ma anche per una questione di approvvigionamento di gameti dall'estero e alcuni centri pubblici riescono ad approvvigionarsi dall'estero di gameti per eterologa facendo appunto dei bandi pubblici esistono anche degli ospedali appunto che lo fanno e queste sono la maggior causa di donazione di gameti femminili per lo più si tratta di donne che hanno un'età riproduttiva ancora ottimale ma che per cause o iatrogene oppure per fattori di ripetuti fallimenti di impianto o ripetuti aborti si devono sottoporre a un trattamento appunto un ciclo con ovo donazione quindi la tecnica di secondo livello cardine è la ICSI l'inseminazione intracitoplasmatica dello spermatozoo del seme del partner oppure nei casi di doppia donazione di un seme di un donatore per cui andando avanti questo è quello che sempre i dati del registro di PMA divisa per fascia d'età come potete vedere le percentuali di gravidanza su transfer sono comunque soddisfacenti per tutte le fasce d'età alcuni gruppi lavorano con questo metodo che vi ho raccontato prima dello sperm freezing cioè il congelamento di seme che viene inviato alla banca estera con ICSI e quindi lo scongelamento delle blastocisti in Italia danno dei tassi di gravidanza anche cumulativi molto soddisfacenti mentre invece quello che può essere il punto di domanda o di questione più interessante è utilizzare gli ovociti a fresco o gli ovociti vitrificati alcune volte ce lo chiedo in realtà c'è uno studio che è questo che vi presento che dice che è preferibile effettuare la ICSI su gli ovociti donati a fresco rispetto a quelli vitrificati dando dei tassi di live birth in questo caso quindi nati vivi superiori negli ovociti a fresco tuttavia dobbiamo dire che questo studio è limitato dal fatto che non ha valutato la gravidanza accumulativa cioè quando si va a valutare tutto la corte di embrioni che si sono formati da questi cicli nascondendo quindi magari un effetto di non inferiorità degli ovociti vitrificati rispetto agli ovociti a fresco per embrioni che sono rimasti congelati per fare un secondo transfer eccetera eccetera e magari si arriverà allo stesso risultato ma con un transfer in più questo è un concetto che per chi è del campo è abbastanza accessibile ma che è importante sottolineare che magari se si propone la inseminazione di ovociti a fresco come la migliore in assoluto è vero ma basato su dati che attualmente non possono confermare in maniera univoca che sia effettivamente questo il caso ecco funziona benissimo anche con gli ovociti vitrificati quali sono i rischi per le pazienti di età materna più avanzata allora vi ho riportato uno studio che è interessante perché prende in analisi oltre quasi 28.000 cicli di ovodonazione in pazienti di tutte le fasce d'età e vanno a valutare come la stratificazione per età dia una life birth quindi sempre il nostro parametro cardine che è la nascita di bambini vivi al termine di un programma di ovodonazione che è comunque molto alta 55% e parliamo di 2014 negli Stati Uniti e andando a valutare per divisione semplice in classe d'età non sembrano esserci differenze significative tuttavia questo studio fa un'analisi molto intelligente cioè fa una regressione logistica significa per chi non ha dimestichezza su quelli che sono i test statistici che vengono utilizzati significa che praticamente si va a controllare i fattori confondenti uno per uno e poi messi insieme per vedere se effettivamente c'è un effetto di un determinato fattore in determinate condizioni che è mascherato dall'analisi globale che viene fatta all'inizio e in questo caso si trova che effettivamente dai 44 anni in su c'è analizzando età per età anno per anno con tutti i fattori che possono confondere l'analisi corretta quindi per questi fattori si ha effettivamente una diminuzione del tasso di gravidanza a termine con bambine nato in braccio in particolare per i 48 anni per questo studio ma questo è dovuto i nostri autori poi lo specificano nelle discussioni di questo studio soprattutto perché la paziente di età materna più avanzata ha già di per sé un rischio maggiore dovuto anche al fatto che spesse volte si fanno transferi di due embrioni in terza giornata disponendole al rischio di una gravidanza gemellare e questo espone ha tutta una serie di rischi enormi come vedremo tra poco per cui bisognerebbe fare sempre il singolo embryo transfer cioè trasferire un solo embrione per volta per mantenere la sicurezza della paziente stessa non è cattiveria del centro quando dicono alle pazienti o diciamo alle pazienti vogliamo trasferire una blastocisti per volta è proprio per mantenere la sicurezza della paziente ricevente al primo posto come obiettivo il concetto di porre al centro del trattamento la coppia la paziente e non l'obiettivo finale perché poi c'è un costo non solo emotivo ma anche dal punto di vista di gestazione e di quello che è il passo successivo che noi a volte dobbiamo tenere sempre presente e che a volte non vediamo dai centri di PMA per ultimo vi porto questa review del 2021 è recentissima in cui si analizza effettivamente il rischio maggiore per i programmi di ovodonazione nelle pazienti con un'età materna più avanzata il rischio è sicuramente aumentato per quello che riguarda l'ipertensione o la preclampsia però questo rischio come spiegano bene gli autori è fortemente ridotto dalla gravidanza singola rispetto alla gravidanza gemellare quindi è fondamentale trasferire un embrione per volta e poi esistono come ci fanno vedere questi autori una serie di strategie terapeutiche preventive per esempio le basse dosi di aspirina che vengono date anche prima nell'inizio di una gravidanza da ovodonazione possono eliminare o ridurre al minimo assoluto l'insorgenza di preclampsia nelle pazienti anche di età materna più avanzata anche dopo i 44 anni in pratica gli autori definiscono e su questo siamo assolutamente d'accordo la gravidanza da ovodonazione come una gravidanza di per sé più rischiosa più delicata per cui deve essere un centro specializzato sicuramente quello a cui si fa riferimento per avere il programma di ovodonazione ma è necessario che ci sia strutturata anche la connessione o comunque l'indicazione per un ospedale per il parto perché anche l'unità a cui si va a partorire deve essere altamente specializzata per eventuali rischio di complicanze di sanguinamento e quant'altro che può avvenire in questi casi che è correlato principalmente con l'età più avanzata del tipo di pazienti che si riferisce al programma di ovodonazione e al fatto che molte volte si trovano anche in gravidanza gemellare per cui in sostanza è assolutamente importante rivolgersi ad un centro che abbia molta esperienza per quello che riguarda l'ovodonazione stessa che possa assicurare dei tassi di blastocisti comunque in modo tale da la blastocisti è lo stadio più avanzato di sviluppo embrionale che si può ottenere all'interno dei nostri incubatori quindi ci permette di valutare meglio quale embrione trasferire da solo nel senso che se ci fermiamo in terza giornata abbiamo un po' l'imbarazzo della scelta in parole povere tutti gli embrioni si somigliano un po' di più in terza giornata e non sappiamo quale di questo avrà più probabilità di fermarsi quindi molte volte si sceglie di trasferire due embrioni perché non sappiamo quale dei due si fermerà e statisticamente il 50% degli embrioni che sono pronti in terza giornata diventano blastocisti quindi almeno uno su due probabilmente si potrebbe fermare però non è sempre detto e quindi la strategia di arrivare allo stadio di blastocisti ci permette di selezionare meglio il singolo embrione da trasferire e quindi basarsi su un laboratorio che è altamente performante che abbia delle tecnologie molto avanzate anche dal punto di vista degli incubatori esperienza nel tipo di cultura e poi una connessione con un'unità diciamo più specializzata per quello che riguarda il parto e la fase successiva con questo io ho concluso la parte di presentazione per cui direi che possiamo procedere alla modalità di question and answer vediamo allora la prima domanda è oltre a partorire un'unità altamente specializzata con unità di 44 anni è consigliabile quindi fare un cesareo allora questo è un aspetto estremamente tecnico e ginecologico uno dei posso dire che uno dei parametri che viene misurato è proprio il fatto che aumentano i tagli cesarei con il programma di ovodonazione perché perché questo io parlo da biologo quindi non posso espormi più di tanto perché non ho esperienza dal punto di vista poi diciamo chirurgica però dalla letteratura sappiamo assolutamente che un ricorso al cesareo è un qualcosa di più sicuro ciò non toglie che si può partorire tranquillamente con un parto naturale dipende dalle condizioni cliniche e generiche della paziente stessa perché ovviamente dipenderà dalla pressione dipenderà dalla dalla settimana in cui ci si trova e iniziano le contrazioni ecco è molto importante non esiste una risposta univoca è un una probabilità che si vada a cesareo però non è detto che sia così possiamo andare all'altra allora la donazione di ovociti Fivet è l'unica opzione per le pazienti in età materna avanzata allora no per età materna avanzata intanto noi intendiamo scusatemi non significa essere vecchie significa semplicemente che abbiamo come dicevo all'inizio l'età materna che inizia in una fase molto giovane della vita di una donna per cui superati i 35 anni già parliamo di età materna avanzata superati i 38 siamo in piena età materna avanzata anche se siamo assolutamente giovani ok il punto è questo che si accumulano quegli errori cromosomici all'interno degli ovociti e diminuiscono gli ovociti poi ogni ovaio è una condizione a sé stante la probabilità che si possano utilizzare gli ovociti propri per una paziente di età materna avanzata e facciamo il caso che stiamo parlando di un'età media che si presenta nei nostri centri tra i 39 e i 41 ok i 42 la probabilità ovviamente diminuisce in base al numero di ovociti che si ha nel proprio ovaio e quello si valuta con la MH la conta follicolare entrale ci sono degli indici che i ginecologi vi sottopongono come esami per valutare qual è la riserva ovarica in base al numero abbiamo poi più chance di ottenere qualche embrione che sia normale cromosomicamente e quindi abbia le carte in regola per andare avanti nella gravidanza quindi non è detto che una paziente di età materna avanzata debba fare per forza l'ovodonazione però è caso specifico superati i 42 43 44 anni ci si avvicina a quella probabilità maggiore di dover si sottoporre a quel tipo di programma ma anche lì non è assolutamente detto allora questa domanda grazie a una blastocisti da odonazione può generare un aborto è un'ottima domanda allora sì anche le blastocisti da odonazione non sono esenti dalla probabilità di avere un aborto l'aborto in questo caso è multifattoriale nel senso che ci possono essere i fattori intrinseci all'embrione oppure strinseci e quindi può dipendere dalla comunicazione con l'endometrio o da tanti altri fattori quindi casualmente si può capitare consideriamo che per quello che riguarda i fattori intrinseci alla blastocisti la probabilità è inferiore perché si tratta di ovociti provenienti da donne più giovani che donano e quindi quel tasso di errori che può portare ad un aborto è inferiore però non dimentichiamoci che c'è la parte maschile di cui non abbiamo parlato e anche lì si dovrebbe fare un discorso per cui bisogna fare un'anamnesi e un esame corretto nel caso in cui si dovesse avere per esempio un aborto da ovodonazione si deve valutare molto bene anche la parte maschile comunque è un tema da tenere il tasso d'aborto da blastocisti da ovodonazione è sicuramente più basso ma non è zero allora la prossima domanda è di Maria Assunta che chiede in Italia il trasferimento di blastocisti avviene sempre in terza giornata grazie Maria Assunta perché così mi permetti di chiarire il concetto dello sviluppo in vitro embrionale allora la blastocisti di per sé si forma nello stadio più avanzato tra la quinta e la settima giornata di sviluppo nell'incubatore generalmente quinta sesta giornata allora quando viene congelata e poi si fa il trasferimento in Italia si prepara l'endometrio per sincronizzarlo con quella giornata di sviluppo per cui si fanno 5 giorni 6 giorni di preparazione dell'endometrio e si trasferisce la blastocisti alla quinta sesta giornata di preparazione grazie la prossima domanda Antonella chiede visto che non posso avere figli naturalmente che ho sempre sognato avere dei gemelli ho chiesto che mi vengano impiantate due blastocisti ma mi è stato sconsigliato per pericoloso è più pericoloso di averli naturalmente è davvero così sconsigliabile seguo un sogno ma ovviamente voglio il bene mio dei bimbi allora grazie Antonella perché sì questo è quello cui accennavo prima dipende dalla fascia d'età dipende da diverse condizioni fisiche della donna per cui non è sempre pericoloso però noi vediamo come specialisti del settore la gravidanza gemellare come un problema dal punto di vista ostetrico nel senso che abbiamo abbastanza esperienza accumulata in letteratura di quelli che possono essere gli eventi avversi dovuti a una gravidanza gemellare che non significa che sarà necessariamente così però consideriamo che generalmente il 16% dei casi ed è alto come casistica di gravidanza gemellare può avere una complicazione che può essere una complicazione per i nati i feti o per la madre il che espone a un rischio a cui non possiamo se vogliamo fare della buona pratica medica e mettere al centro gli interessi principalmente della paziente e dei futuri nascitori non possiamo permettere di trasferire degli embrioni sapendo che c'è un rischio senza informare poi è la decisione ovviamente del medico con la coppia e quindi dovete decidere voi però ci sono le condizioni mediche fisiche della coppia della paziente ricevente che sono più proibitive e quindi si è assolutamente sconsigliabile e poi c'è un altro aspetto la blastocisti di per sé ha il rischio dell'1% di sdoppiarsi quindi una blastocisti nell'1% dei casi può diventare due bambini quindi trasferire due blastocisti il rischio è veramente raro però può diventare qualcosa di più allora quali sono i passi di tempi dopo il trasferimento di ovosciti allora per trasferimento di ovosciti immagino che parliamo di dei gameti che vengono presi dall'estero e trasportati in Italia suppongo che intendiamo questo quindi il trasferimento proprio fisico la movimentazione allora i passi sono molto semplici bisogna effettuare l'inseminazione col partner maschile quindi si scongelano gli ovosciti si effettua la coltura in vitro che viene fatta appunto nei laboratori fino allo stadio di blastocisti e poi c'è il transfer generalmente dal momento in cui arrivano gli ovosciti al momento in cui si fa il transfer è soggettivo della paziente ma può passare una settimana come un mese e poi se trasferiamo invece in Italia le blastocisti allora è importante solo sincronizzare l'endometrio e quindi procedere con lo scongelamento e il transfer i tempi comunque non sono molto lunghi possiamo andare all'altra domanda allora se il trasferimento non va a buon fine quando è consigliabile riprovare allora in questo caso il trasferimento è il transfer in utero se dovesse fallire e quindi non andare a buon fine si può riprovare quasi subito nel senso che quando si prepara un endometrio e si effettua un transfer se ci sono delle altre blastocisti congelate ok quando non va a buon fine si aspetta il ciclo successivo o la preparazione sul ciclo ormonale successivo generalmente un mese e quindi si risincronizza l'endometrio per cui nel giro di un paio di mesi si può riprovare a trasferire un embrione questo è quando appunto si hanno delle blastocisti già congelate quando si ha più di una blastocisti a disposizione c'è un limite di età per la procedura con il trasferimento di ovociti donati si l'avevo detto all'inizio lo ripeto volentieri adesso il limite di età per la procedura di ovodonazione per la parte partner femminile è di 50 anni compimento di 50 anni dipende comunque dalle condizioni fisiche della ricevente quindi è molto importante la valutazione da parte del ginecologo di tutta una serie di esami prove da sforzo per esempio fisiche della donna che deve ricevere gli embrioni a 50 anni 51 anni perché ci si espone a un rischio importante con una gravidanza in quella fascia d'età per cui va valutata assolutamente in maniera approfondita dal punto di vista clinico quali fattori determinano il successo della fecondazione in vitro bene allora questa è sicuramente una domanda interessante un po' generica nel senso che se parliamo di fecondazione in vitro con ovodonazione questo è il tema del nostro webinar allora iniziamo da qui sicuramente i fattori che determinano il successo sono il il numero di tentativi possibili con singola blastocisti per cui ovviamente se otteniamo anche due blastocisti da un programma di ovodonazione abbiamo una probabilità di successo maggiore rispetto ad ottenerne una sembra la palissiano però in realtà è così perché poi noi quello che dobbiamo valutare è la gravidanza accumulativa su un gruppo di embrioni che noi otteniamo in un singolo ciclo di trattamento dal punto di vista proprio tecnico i fattori sono sicuramente la standardizzazione del laboratorio la perfetta sincronizzazione dell'endometrio la recezione e la recettività endometriale qui abbiamo nel nostro campo dei fattori che devono combaciare per ottenere il successo quindi sono fattori di laboratorio e clinici fattori nel paziente che riceve l'embrione che sia omologo che sia terologo che quindi riguardano la recettività endometriale e la sincronizzazione il programma di ovodonazione negli anni non solo in Italia ma in tutto il mondo ha consentito di capire tante cose anche sull'omologa per cui nel modello di ovodonazione si è potuto andare ad indagare quali fossero le strategie migliori per andare a sincronizzare l'endometrio per esempio allora in questo caso noi sappiamo bene quanto possa essere importante sottoporre ad una paziente una strategia di sincronizzazione o di preparazione dell'endometrio su ciclo spontaneo oppure su ciclo stimolato questa è una valutazione che fa il clinico di volta in volta i fattori appunto che ne determinano il successo sono sicuramente l'esperienza e la standardizzazione delle tecniche allora quali sono i criteri minimi per la scelta delle donatrici e quali sono i criteri non obbligatori ma che portano in processo di scelta ad essere più efficace anche questa è una domanda interessante e i criteri minimi per la scelta delle donatrici li ho elencati nel corso della presentazione e li ripeto molto volentieri sono l'aspetto psicologico le caratteristiche anamnestiche dal punto di vista clinico quindi deve essere in buona salute l'assenza di patologie virali e quindi deve essere una paziente sana l'assenza di patologie genetiche e queste sono le caratteristiche di base ok e poi ovviamente il gruppo sanguigno il fattore RH le caratteristiche somatiche quindi il colore degli occhi dei capelli dell'altezza il peso BMI eccetera sono caratteristiche che ci aiutano poi in laboratorio a fare il matching con la donatrice in modo tale da ottenere una maggiore compatibilità però questo non è per il successo clinico ma quanto per la scelta proprio di matching con le caratteristiche della coppia e quali sono i criteri non obbligatori e tra i criteri non obbligatori ce ne sono due uno che può essere utile come osservazione ma non è detto che sia più efficace le donatrici o i donatori possono essersi già riprodotti quindi avere una donatrice che si è già riprodotta ci dà un'indicazione del fatto che il suo stato di salute generale ha funzionato per quello che le riguarda per cui ha una fertilità provata dal fatto che magari si è riprodotta da sola e un altro criterio non obbligatorio che non valutiamo scusate il criterio di prima non lo valutiamo generalmente ma può essere un'indicazione lo stato di salute generale della donatrice un altro criterio non obbligatorio ma che può dare delle informazioni utili è sicuramente poi il pannello di geni che può essere valutato nella donatrice cioè il testing di un pannello di geni aggiuntivo che ci permette di andare a valutare una serie di patologie che possono essere correlate a un fenotipo molto raro e questo può essere efficace nel senso che se si esclude una patologia rara presente casualmente in maniera puntiforme in una donatrice che per pura casualità può essere presente nel partner maschile allora si evita di dover decidere poi in futuro dell'embrione che ha quella malattia quale sarà l'esito finale e quindi se per esempio è una patologia non compatibile con la vita riduce l'efficacia del trattamento questa eventualità proprio perché aumenta anche le probabilità di aborto per esempio ok per cui anche le patologie genetiche possono essere utili nel corso dell'analisi generica della selezione della donatrice se abbiamo altre domande allora con l'eterologa Sara chiede posso essere seguita in Italia sin dall'inizio del percorso giusto questa è una giusta domanda assolutamente sì che cosa accade praticamente noi selezioniamo dalla prima visita con la coppia che necessita di un programma di ovodonazione si effettua quindi l'ingresso in questo programma che viene gestito completamente qui in clinica per cui nel nostro caso all'Europiano Hospital la paziente entra fa la prima visita il medico le consiglia quel tipo di percorso quando la coppia decide in autonomia di poter di volersi sottoporre al percorso di ovodonazione viene seguita interamente in Italia e nel nostro caso specifico qui a Roma nel senso che la coppia è come se fosse trattata in Spagna nel nostro caso specifico lavoriamo con un centro che si trova a Madrid che è sotto la nostra gestione proprio perché siamo un gruppo internazionale quindi gestiamo in pratica anche i trattamenti che vengono fatti lì nel centro della banca estera e quindi in questo caso specifico la paziente la coppia è come se viaggiasse in Spagna senza muoversi dall'Italia reimpatriamo gli embrioni e i blastocisti facendo il transfer qui e quindi tutto il percorso viene eseguito assolutamente qui a Roma in Italia in generale ma qui a Roma nel nostro caso specifico grazie allora quanto è migliore l'ovodonazione da fresco in confronto a quella da congelato se non va bene il primo impianto e si deve ripetere con blastocisti congelati si ha comunque una possibilità di avere una gravidanza Antonella ok grazie Antonella dicevo prima che sicuramente il vantaggio dell'ovodonazione da fresco è stata messa in luce da uno studio che però non è completo come dati e quindi attualmente non abbiamo dati per dire meglio da fresco e meglio da congelato i risultati ci sono in entrambi i casi in che senso può essere meglio da fresco nel senso che gli ovociti di per sé sono cellule molto sensibili per cui congelare e scongelare gli ovociti ha il tasso di sopravvivenza al 90% questo significa da un punto di vista puramente aritmetico che su 10 ovociti probabilmente me ne sopravviveranno 9 ogni ovocita di donazione è importante per aumentare le probabilità di arrivare a blastocisti e quindi una chance in più di fare un transfer corretto per cui l'unico fattore veramente limitante almeno attualmente con i dati che abbiamo a disposizione è che inseminando gli ovociti affresco naturalmente gli ovociti che ho saranno tutti preservati e mi daranno tutti una probabilità di ottenere una certa probabilità di ottenere una blastocisti con quelli congelati dovrò fare i conti con quelli che sopravvivono e noi usiamo tutta Italia tutto il mondo utilizza la vitrificazione che è una tecnica super efficiente per gli ovociti e quindi funziona molto bene però allo stato dell'arte la sopravvivenza di ovociti non è 100% ma 90-95% questo è il range con cui possono sopravvivere per cui ovviamente c'è un rischio di ottenere un'ovocita in meno al momento dell'inseminazione l'altra domanda che includevi era se non va bene il primo impianto si deve ripetere con blastocisti congelate si ha comunque una buona probabilità di avere la gravidanza assolutamente sì lavoriamo con le blastocisti congelate da diversi anni in letteratura i dati che si sono accumulati sono confortanti anzi per un certo momento in letteratura abbiamo avuto anche un trend di interesse nell'aumento di gravidanza che si osservava dalle blastocisti congelate rispetto alle blastocisti a fresco ma quello era probabilmente dovuto a determinati ormoni che possono esserci nel transfero a fresco ancora come residuo della stimolazione ovarica per intenderci invece quando si fa il transfero da blastocisti congelate l'endometrio è preparato da zero non si ha una stimolazione ovarica pregressa nel caso di l'ovodonazione non c'è nessuna stimolazione per cui si ha un tasso di gravidanza praticamente pari e non ci sono neanche rischi accumulati per quello che riguarda i nascitori ovviamente è un dibattito che c'è in letteratura però non ci sono dei dati concreti che ci possono dire un transfero è meglio di un altro una strategia migliore di un altro attualmente sappiamo che non c'è rischio per l'uno e per l'altro e che assicuriamo tassi di gravidanza praticamente sovrapponibili al fresco allora un'altra domanda è cosa cambia tra procedere con una fecondazione con i propri ovociti rispetto al procedere con ovociti donati quali i pro e i contro delle due soluzioni allora procedere con i propri ovociti ovviamente la paziente si deve sottoporre a una stimolazione ovarica viceversa gli ovociti donati non implicano questa eventualità per cui si passa direttamente a ricevere gli embrioni che vengono prodotti dall'inseminazione degli ovociti donati i pro e i contro sono semplicemente relegati al numero alla qualità di ovociti che si riescono ad ottenere da una stimolazione delle ovaie della paziente se siamo in una condizione appunto di limite di età e limite di riserva ovarica la stimolazione di ovociti propri sarà diciamo avrà dei risultati poco poco performanti e poco efficaci per cui a quel punto sicuramente sarà meglio nuova donazione per risolvere il problema di sterilità dovuto al depaperamento della riserva ovarica degli ovociti propri grazie dottor scarica scusi se mi introduco prima dell'ultima domanda innanzitutto ringrazio ovviamente ho letto il suo tempo ma la ringrazierò tra un attimo e ringrazio gli utenti che hanno posto le domande alcune devo dire molto interessanti che vedo vanno in parte proprio a sposare quello che è la filosofia di questo nuovo progetto appunto di New Fertility Group attraverso europeanostica a Roma questo servizio diciamo questa accoglienza questo supporto questo abbracciare provate a 360 gradi quello che sono le esigenze non solo tecniche perché quelle ci sono e le in qualche maniera coprite al 100% ma proprio anche le esigenze se vogliamo emotive umane in un percorso più difficile alle volte dunque prima di passare alla prossima e ultima domanda colgo l'occasione per ricordare a tutte le utenti presenti che dopo la fine del webinar potranno in maniera molto facile e molto semplice mettersi in contatto appunto con questo innovativo gruppo il New Fertility Group presso l'Otronofita Roma semplicemente accedendo vi faremo vedere il link dove pubblicheremo il webinar e prendendo contatto diretto con direttamente il dottor Catello Scarica quindi il dottore leggerà direttamente le richieste che traverranno ci sono delle domande in coda che non riusciremo a pubblicare perché ci siamo dati 60 minuti siamo già un pochino oltre queste domande verranno inoltrate direttamente al dottor Catello quindi non preoccupatevi perché il dottore poi vi risponderà in maniera singola a ogni singola domanda con la modalità più appropriata e più consola dunque Goda cortesemente possiamo pubblicare l'ultima domanda eccola qui quali potrebbero essere i rischi della FIB con l'opocibi donati ok bene i rischi sono principalmente per quello che riguarda la gravidanza soprattutto in età materna avanzata come vi dicevo prima la gravidanza da ocibi donati è di per sé più delicata proprio perché nel programma entrano donne riceventi con un'età maggiore o ci sono complicanze da gravidanza multipla e quindi sicuramente bisogna attenzionare maggiormente il decorso della gravidanza e rivolgersi a centri specializzati che poi consentono di seguire bene la gravidanza fino al parto in tutta sicurezza dal punto di vista clinico o embriologico non c'è nessun nessun rischio di effettuare una X con ovociti donati rispetto a quella con ovociti propri ecco il punto di attenzione maggiore è solo il seguire la gravidanza di per sé grazie grazie a tutti per aver partecipato così numerosi a questo quarto webinar della European Fertility Society ma soprattutto grazie al dottor Catello Scarica direttore del laboratorio PMA presso la clinica European Hospital Roma e co-fondatore di New Fertility Group per averci parlato di fecondazione con ovociti donati per donne con età materna avanzata grazie dottore grazie a voi è stato un piacere grazie ti è divertito allora abbiamo diverse domande in evase ma non preoccupatevi rinolteremo al dottore che provvederà a rispondervi in maniera singola per chi di voi lo desiderasse inoltre sarà per noi un piacere mettervi in contatto direttamente con il nostro gradito ospite infine ci farebbe piacere avervi di nuovo con noi in uno dei prossimi webinar vi ricordo che webinar della European Fertility Society sono ogni martedì alle ore 18 e per iscriversi gratuitamente è sufficiente accedere a myadfansware.it come potete leggere in basso vedo che ci sono dei grazie per il dottor Cattello Scarica le porto diversi grazie da parte delle persone abbiamo un bellissimo messaggio che dice grazie mille sempre interessante ed esostivo questi webinar sono bellissimi grazie di cuore devo dire che sono molto contento perché grazie a questo progetto che abbiamo imposto diciamo a portarci a bordo dei professionisti di alto livello come il dottor Cattello Scarica perché si evidenzia una professionalità e un interesse proprio nel portare educazione e riuscire a utilizzare questi strumenti digitali per creare nuove opportunità e creare valore dottore si è divertito? molto grazie per me è sempre molto interessante confrontarmi appunto con le persone che sono coinvolte e che quindi come diceva benissimo lei e sono poi hanno tutto un aspetto anche di spesa dal punto di vista emotivo che noi dobbiamo accogliere e trattare assolutamente con centralità per cui sono molto contento di aver partecipato e di confrontarmi con le domande delle persone che sono direttamente coinvolte allora colgo l'occasione spero di poterla avere ancora con noi tra autunno e inverno di quest'anno sarà un piacere grazie grazie mille arrivederci a tutti arrivederci grazie